In provincia di Padova con il 62,44% trionfa il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari, il No si ferma al 37,56%. Il voto per il referendum è stato espresso da quasi il 70% degli aventi diritto, con il record dell'80% nel comune di Vighizzolo d'Este. In tutti i comuni del Padovano vince il Sì. Nella bassa Padovana, nei comuni di Correzzola, Pozzo 9 e Vescovana, il Sì raggiunge addirittura il massimo dei consensi, superando il 69%. Solo in due comuni, Arquapetrarca e Padova, il Sì si ferma al 56%. In città c'è da segnalare il caso in controtendenza del centro storico, dove invece trionfa il No. In più di 30 seggi, infatti, è evidente l'opposizione alla riforma del taglio dei parlamentari. Nella roccaforte Padovana del No, in tre seggi, ha trionfato Lorenzoni su Zaia.